musica 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 perchè adesso viene a fare la sua sangue? ahhhhhh se ti raccomi adesso viene a fare delle bipi no ma su a mano destra adesso ma ti ne deve fare sempre male con niente una penisina dall'ongia che viene a fare la sangue madonna a te che è tutto eh si Marco che esagera sempre eh, mi sono fatto... quando? appena adesso ma che gli ho visto fuori la fia di sangue che ero una perecina a cavallo avevo parlato che si cavava via un mese a pedi, un mese a mano ciao Marco ma cominciamo i tuoi tiri matonelli? eri lì che te quei tuoi autoblocanti ah ah autoblocanti, i dadi autoblocanti no matonelli autoblocanti niente devi dire e il pavè diciamo eh matonelli autoblocanti no matonelli autoblocanti tu ti fai sboron con roba meccanica ti fai roba ti fai roba il nome ai metalmeccanici altro che matonelli autoblocanti ciao Marco fai figo perchè mi so metalmeccanico e stavose termine che usiamo gli altri ti fai roba perchè sei un edile diciamo e ora un edile un edile no edile vabbè edile 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 è la stessa cosa eh esatto questa parte segue i mentali vada a un muraro veneto e te domandi se fa l'operatore edile e lui c'è un po' a betoniero ti fai verso tutto addosso vabbè il cantiere edile edile è la stessa cosa no sarebbe edile comunque edile secondo me è esatto che essere edile no ci dice edile dopo di marco vedi questo dito lo vedi vedi no perchè non siamo in no no 2 cosa 3 2 1 così a caso ciao ciao e la testata la compri no? eh nella testata si che c'è la testata dei tirasoli dove 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 beh aspetta aspetta che domando a mati non c'è mati no che arriva tardi aspetta che adesso dico a mati di indominare il colore ma cosa mi dice ma cosa quello del carretto o quello della testata no l'abominio che ha fatto marco come su solito quel carretto che abominio che abominio di colore è questo è una cosa mi sa dire allegraggio il signor matti fa sparire questa schifezza fortuna che non potevi fare le ruote rosa sennò addio fxia ma se ho fxia o se ho rosa fxia fxia c'è che ho visto un attimo no che no allora oh fxia 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 fč co fxia 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 Senti, senti il battimento di una mosca. Senti che... Io mi sembra che è un aldeare. Ho capito che è che è una sorana, giusto? Sì. Ho capito, giusto? Scusate, c'è stato un piccolo... Ho capito che è che è una sorana. C'è qualcuno che vuoi attaccare la specie del respiro? Sì? Ah? Del respiro? Il respiro, sì, il trappello, la puoi andare. È un anginatore? Sì. A tappeto. Ti pensi, se sia cucita, tu arrivi a casa con una marocchina, con una... A te, la cassa, la cassa, la cassa, la cassa e la stufa... No, la che prepara è un bel salaminta già, e adesso... Sì, appunto, zero direi a me sia una zero assist. Il problema è proprio mangiare. Cioè, tipo... Se ti inviti ai nostri, dove il quantitativo è tipo 75% maschio. Cioè, nel senso... Allora, guarda che a Maria andaria fatta un altro verso. Eh, ho problemi. Mi c***o i cufi, se qui alzo il microfono, t'acca e senti quello che dico. Te fai in vivo oggi con i cufi su. Sì, ma non ho sentito. Dopo parlare solo, metti stretti. Ma sì, ma non lo faremo mica, no? No, vai tranquillo. Mi pare che mi sia migrato, no? Così. Ma... Si è lavato proprio come dino crudino. Mi si è piantato il gioco. Ho fatto 8 mesi, era 2,79. Ecco. Yeh, ho preso la connessione. Ho ancora che me la... Si è ancora piantato il gioco, che è successo? Caso umane tagliarà l'erba questa chi... Chi non sa nea tagliare. Ancora? Ma perché? Ancora! Che non va... Oh, stai proprio non va un c***o, veramente. Tongo sei! Io che le crascia anche qui? No, io ci sono... Ah. No, no, ci sono qua. Si crascia sul gioco? Si, infatti. Ma non so perché. Secondo te che succede? Boh. Poi mi vedi gli ignoranti come... No! Si! Ma... Ma... Poi... Anche la claudia di guardare gli ignoranti... No! Che nome ti metti tu, verde? Dondino. Se no, Dondino. Ecco. Dondino... Che non diventa Pompino dopo. Che schifo! No, ma di no pensare a Crudino, no. Ma... Che schifo! Eh, sono pieno... C'è nel senso... Le balle... Davanti. Allora, cambia tanto... Ah, ma a me se devo pestare l'erba... Passandomi in cima. Eh si, ah. Se è capestamento attivo. Perché laga? Eh, anche mi lagava prima. È venuta nel club. Ma come? Dopo... S'ho crashata due volte. Settanta e più. Sessanta e più. Ma sono crashato due volte. Non so perché. Sarà mica il coso... L'altra peo. Secondo mille respiro perché... Quando... Ma ieri odio ti torsero i bionni. E... Matteo che sbassare. E se sbassare anche la paia. Se vuoi vedere guardate che è duro. Matteo che è sempre duro dopo tutte le menti. Sì, ma... Ho amato passato. Mi ha dato fastidio di girare. Sì, beh... Su Forza Horizon era... Aspetta... Non ho capito cosa... Eh... Pugno, è stata la sorella. 3... 2... Meglio anche. Ma io non lo so. Ma io non ripetere. 3... 2... E so se mica cosa c'è fa per te... Ah no, aspetta... Io avverte che... A fare... Il sito entrare con il nome. Che cambia la voce. Dondino. Eh... Dì... Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Simo. Ciao Simo. Ah... Oppure anche Ciao bé. Ciao bé. Gabbè. Quale voce metti? Fai... A fare sul manual. Puoi regolar che è in trial... La... La voce. Ok. Adesso come... Abassare o aumentare il tono. Adesso? Adesso ti sembra un... non so... Dì ciao PODOA! Ciao PODOA! PODOA! TAPODOA GAY! Comunque la voce potrebbe anche essere giusta? Nooo... Ti fa una voce come Gigi parafango? Eh... come vuole? Eh... anche? Io ho già una voce... Io ho già stai mangiato dai voce, non troppo! Sì? Vieni un po'... Fraterno... Che cazzo di nome? Fra... eh... Eh... Fraterno? Eh... Frattasso... E' Fratons... E' Frattons... Perché ti metciavi le parole? Attenzione! Quindi volevo che cambia il nome o lascio questo? Ah beh adesso è fracasso. No no, si fracasso. 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 Non facciamo fracasso. Fraffitto è lì. Sarebbe Don Beppi? Eh ma è massa banale. Adesso noi siamo persone banali che mettono boiato e fanno tanti altri. Quello è il nome Frattasso. Eccola. Frattasso, ma ancora questo Don Perignolo? Eccola che stupra i bambini se non ricordo mai. Che scherzo, no entri a ieri dai. Dai, vai, poi metti in galera. Mi puoi discurre del champagne. Don Perignolo è uno dei primi preti a fare champagne. Ah bene, è un preto alcoolizzato praticamente. E violentare i bambini. Ma questa è un'altra strada. Questa è un'altra strada. Dai metti Frattasso. Frattasso. Sì, sarebbe applicato praticamente il Frattombo, no? Frattasso sia più bello. Sì, fatto. Una S sola o più di una S? Ah no, una. Eh ma viene il Frattasso come animale dopo. Frattasso. Frattasso. Una. Ma viene il Frattasso. Frattasso. Io vi penso sì all'animale. Si chiamava prima Fabio Don? No, Frafabiano. Frafabiano? Sì. E ti chiami Don Frafratasso? Frattasso? Fratello? Non ti senti quel buziente. Don Frafratasso. Stiamo a fare, ehm... ...fonsi scambi. Ci sono ben ottene. Allora, solo un'uscita, basta. E mette scambi, però. Si diverte. Ma è tutto qui, lo sente poco. No, Fabio parla con la voce sua. Eh. Ok, metti una voce bofficiara. Cosa micchia suoni? Sto guardando l'acqua. E vedo cosa. Chi è che... Ma cosa... Quasita. Potpina. Io stesso so che cambia mille bucce. Non so se ti è convenuto eseguire questa mossa. Cosa vuoi fare con quello sgorbo? Con un cancalone. Cosa cancalone? Oh, mettiamo... Marco 3 a fare il fratello di Chongqing. Chi deve essere sempre l'aria. Questa è una gamba di soia, dio. Ecco. Questa è una bestia. Qualsia devo fare? Assassini. Un becciotto. Senta qua, c'è, non stava a morte. Sì, tanto. Per funzionare fu fuori di inquadrarti. Ah, ok. Dove era il frate con Red Bull. Si, era un po' spastico. E era un frate, dicevo, molto vivace. Quanti sky costa... ...ve lo tempo di voi a portare le malte. ... Si. Mi pensi di arrivare a te con pisciane, ti scaveri su una testa. No, se ti mette mi va anche bene, ma ne fa poco elettricità per casa. Sì, poi il vibratore, dì. No, ma se non mi caricarò, se no, il telefono di vostro va bene. Ah, lì. C'è di occa. La soia, la soia. Ah, fate questo? Non ciò dai, sul capo della soia. Ah. È meglio che vieni a trebbiare che soia. Antony va ca' e tira una boia. Io avassavo da superfiori. Ma aspetta che ora andando a through. L'ho attaccato da gilaccioli. Eh... eh. Ma veri tu qua trebbiare? No, con il motocaro Mi stai fidando? Ma si poteva là a giocare C'è il sguasso Sguasso suatrina Diventa Peppa Pig Non avevo riflettuto al riguardo Mi speria che adesso venisse fuori Al prezzo Da che puoi stare Il boccio mi sguasso suatrina Dopo aver incalcato Poi unis il rimorchio di Angelo A trina sul prato di potei E' meglio che tu me Asi casa Ma che bello il boccio è quello che è Dio Sento farlo per dare sui mani Il campo a calcio Così ti vai a giocare Sento il boccio arriva a casa A sommare Scusa la trina E braga e maglietti Imbrattate di trina E va a lavare A sommare c'è un poteccio 120 gradi Dio Dio Il lavo Porca vacca Eh c'è anche il bambino davanti ai bacchi anche Sto capito Nooo Ciao Marco Mamma mia Che ho fatto Ah te si casca so Ciao 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 Marco E' buoncio Dai Il capo le soia Eh Oh mio Dimmi Eeeh Sto mercoledio siete a trebbiare la soia Com'è rotta Come fette Ah no Sei rotta Sei piada Eeeh Sì 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 No No Ma lui ha trebbiato qui c'è trebbiare il frumento stanno qui Va bene 3 2 1 Attenzione c'è anche qui Uff Fai figa Uff Aspetta, matti, matti torna in Trio Toronto in Trio Bu Turns aah che sta facendo il signore? ci prendo, ci prendo ai butteleti hai qualche ruota di sé i butteleti? se non lo so c'è il tema è Agri che fa il prete sicuro? vabbè dai, il mio motore è stato stampa sicuro qualcuno domandrà questa cosa qua di quanto è ad alto assorbimento a 7 punti che strato lì te resta fa 3 mesi si si mettete pianti diretto di lg guia no go est oh bravo going est si seria going, no go est scandinavia actros toto fatto con coronavirus che non prenderò a cosa? actros toto sono ati di censura in questo momento e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga